Dario, la riabilitazione. Ho esperienze lavorative, ho fatto il vetrinista, allestivo le vetrine, c'erano anche gare di vetrine ben allestite dove devi mettere la roba in un certo modo. Ho buoni gusti, mi piace la vita, capito? Questa non è vita, questo è un tugurio, un tugurio, capito? Sono stato ricoverato per stalking, mi hanno denunciato per stalking due ragazze, la mia ex ragazza che ha abortito mio figlio quando avevo 21 anni, mi sta accusando che io sono andato a casa sua, ha dovuto cambiare casa, e poi questa educatrice, che sicuramente l'ho scocciata, però mi rendo conto di aver commesso una fesseria, però non mi merito un posto come questo, mi capisci? Io sono un tipo che faceva windsurf, surf, catamarano, laser, facevo regate. Mio padre lavorava in un club. A me piace il mare, hai capito? Io sono un pescatore, io sono abituato ad addormentarmi cullato dall'acqua e a svegliarmi altrettanto. La mattina salpare le mie reti, salpare un paio di chilometri di reti e mettermi nella tasca 4-500 euro al giorno, capito? Ho vissuto anche ad Aversa, mi sono fatto 4 anni al manicomio criminale di Aversa perché avevo distrutto due macchine che erano parcheggiate nei miei due parcheggi privati. Cioè, c'è scritto proprietà privata nei parcheggi. Avevo avvisato che non dovevano parcheggiarci e invece avevano parcheggiato le stesse macchine che avevo trovato prima. E dunque le ho demolite con una mazza da baseball. Nella mia borgata, se non ti fai rispettare, ti mangiano una pasta asciutta in testa, capito? Tu ce l'hai presente una borgata dove è pieno di bulli, dove il più forte fa la legge, dove ci sono famiglie coalizzate? Sì, io abitavo lì. Sono stato prima ad Aversa. A dire la verità ho avuto problemi non esistenziali, però un disagio dai 16 anni. Sai quando non sei né carne né pesce, sei adolescente e non riesci a dire a cosa servo. Sono arrivato in questo mondo in una famiglia in cui si litigava. È entrato mio cognato in casa e mio padre litigava con lui perché mia sorella doveva rientrare a una certa ora. Dunque, un po' di casini in casa. Mia madre che difendeva mia sorella, mio padre che si incazzava con mia madre. Mio padre poi è morto nel 2000 di cancro. Cioè non è tutta rosa e fiori la mia vita, capito? Non so come dire. Cioè ho avuto la psicoanalista a 16 anni. Non la psicologa o altro, la psicoanalista. Però mi è servita, perché mi ha aperto un po' la vita questa psicoanalista. È una persona in gamba, si chiama... Patrizia si chiamava. No, no, Aversa proprio no, mamma mia. Aversa è veramente brutta. Io sono anche stato alla staccata. Ho fatto il reparto 5 all'8bis da dove è fuggito Cutolo, dove hanno buttato giù il muro. Gli ho passati tutti i reparti. Poi sono stato in un reparto dove non c'erano neanche le guardie carcerarie, figurati. Poi da lì in una comunità sarda, Morgongiori. Sì, di un prete, anche se poi il prete non c'entrava niente. Il lavoro lo svolgevano ex tossicodipendenti. Lì ho lavorato come allevatore, come contadino, florovivaista. Piantavo lattughe, finocchi, pomodori, zucchine, melanzane, di tutto. Pure gli spinaci. L'errore però, secondo me, l'ha fatto il mio psichiatra. Hai capito? Il mio psichiatra ha parlato con il sostituto procuratore. Anziché interrogare me per stabilire se potessi fare il carcere. Hanno stabilito che io dovessi fare la comunità terapeutica. In comunità terapeutica io non avevo nessun dialogo, con nessuno. Ma perché davvero erano dementi? Cioè, della gente disabile mentalmente. Ce n'erano alcuni che venivano dall'OPG, con cui stavo per avere dei problemi, ma poi ho evitato i guai. Io stavo molto da solo. Ho telefonato quindi al mio avvocato e gli ho chiesto di parlare con i responsabili che anziché stare con i ragazzi fanno il lavoro d'ufficio. Insieme ai ragazzi non ci stanno mai. Ci sono pochi educatori. Capito? Per me è grave stare qui. Mi dispiace stare qua molto, molto. La cosa che mi scoccia di più è che io ho una vita sociale fuori e che magari per uscire di qua dovrò fare un'altra comunità. Io ho 47 anni e non ho più tempo da perdere. Capisci? Ho passato Aversa. Ho passato anche la staccata di Aversa, che se tu sapessi cos'è, mamma mia, ma tu lo sai che cos'è?